bella a tutti ragazzoli e bentornati in questo nuovo video di minecraft io sono maullo941 e oggi siamo tornati su un nuovo video di minecraft l'ho appena detto sì sono scemo sì me lo dico da solo sono scemo sì sì signori prima di partire col video vi ringrazio vi ricordo di iscrivervi al canale vi ringrazio per like per i commenti per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie a tutto il canale vi ricordo di seguirmi sui social mi trovate come maullo941 sia su facebook che su instagram e tramite questi social vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live sia su questa che sulla piattaforma viola detto questo in descrizione troverà dei link dei canali che si sono abbonati al mio canale che lo possono fare perché hanno abbonando si hanno ottenuto il privilegio di spuntare in descrizione ogni mio video detto questo signori non perdiamo altro tempo e partiamo con il terzo video di questa bella serie ok signori allora oggi costruiremo la nostra casa perché non possiamo continuare a dormire e in mezzo al nulla praticamente è in mezzo a nulla non ho fatto nessun tipo di progresso solente per raccolto un altro po di legno e raccolto niente non raccolta nient'altro stanno dicendo un altro po di legno e stop come lo organizzeremo la nostra casa signori allora la crafting table sposto là un attimo ok e l'andiamo a mettere più qua così è bella però la mettiamo qua signori domani poi la mettiamo dentro casa come sarà organizzata casa nostra signori casa nostra sarà organizzata tipo siamo su un'isola deserta ovvero siamo precisamente su un isolotto sabbioso di conseguenza siamo della una sorta di naufraghi no che ci devono riuscire a sopravvivere perché la nostra barca è incagliata in quegli scogli là sotto è affondata e noi ci dobbiamo riuscire a sopravvivere con quello che abbiamo quindi sarà una casa molto spartana molto diversa da quella degli altri episodi e l'andremo a costruire in questo momento allora cosa andiamo a fare signori noi dobbiamo creare degli delle staccionate delle staccionate vediamo si facciano così le staccionate si tre non mi bastano mai nella vita ma non si ce li ho qualche altro blocco per fare qualche altra staccionata allora facciamo intanto queste li continuiamo tutti così e quindi ne abbiamo sei ok perfetto allora noi tra l'altro stiamo morendo dalla fame nostra casa avrà allora intanto ci allarghiamo un poco così avrà l'entrata che sarà dritto col ponticello giusto poi avrà dovrà avere due spazi di qua quindi uno e due e qua ci sarà il primo pilastro ok poi avremo due spazi di qua e qua ci sarà un'altra entrata in cui andremo a fare un altro ponticello in quella direzione e avremo altri due spazi che saranno occupati e il palo lo mettiamo lì perfetto dietro avremo ci si può muovere si dietro avremo due spazi un vuoto un palo due spazi e l'altro palo ci siamo lì di lato si di qua stessa cosa due spazi e un'entrata che poi vedremo se sfruttare oppure no altri due spazi e il nostro palo dovremo essere nuovamente in linea con la situazione due spazi un'entrata due spazi e il palo perfetto voi direte cosa ci va messo in queste in queste in queste in questi spazi in questi spazi signori miei noi dovremmo avere un bel po di legno perfetto andremo a fare tutte delle casse signori voi direte ma tu sei pazzo no non sono pazzo signori io mi sono reso conto che ogni volta andando a fare il magazzino e lontano da casa noi non lo sfruttiamo nella maniera più totale di conseguenza andremo a mettere tutte casse così a giro ovvero metteremo due casse di qua e due casse qua e poi ne metteremo altre due sopra e altre due sopra stessa cosa qua faremo la nostra par le nostre pareti saranno formate da casse signori qui andremo a mettere il nostro bellissimo lettino ok così qui saremo dritto dritto porteremo andare dove vogliamo per quanto riguarda la crafting table ora vediamo dove la possiamo andare a piazzare fatto questo facciamo cosa facciamo facciamo qualche altra allora vediamo se riusciamo a fare qualche altra staccionata ok perché dobbiamo salire di un bel po perché dico non possiamo vivere in mezzo al nulla vivere con la testa scoperta di conseguenza saliamo di un altro ok e penso che potremmo anche salire di un altro così ci mettiamo in sicurezza praticamente saliamo così ok saliamo di tre di ognuno due e tre perfetto non mi basteranno mai questi nella vita però abbiamo la possibilità di farne altri perché tra l'altro abbiamo legno in abbondanza o per questo preferito ho cercato di sfruttare di far crescere i vari legni i vari alberi si legno si fanno crescere ok ok sopra sopra in maniera molto carina e coccolosa andremo a mettere tutte le foglie signori dice ma che come cosa stai dicendo sì faremo una vera e propria capanna signori una vera e propria baracca perché noi siamo isolati su quest'isola isolati su quest'isola non si può sentire qua mettiamo la crafting table e davanti potremo anche metterci poi la fornace quando un giorno avremo il nostro il nostro il nostro ferro praticamente il nostro per il nostro ferro il nostro pietra per poter farla il la fornace che al momento non abbiamo qui stanno crescendo tanti bellissimi alberi e che noi però se non sbaglio abbiamo del ferro giusto perfetto il ferro mi serve per fare una una cesoia so che perfettamente che mi starete maledicendo perché sto consumando l'unico ferro che c'ho facendo una cesoia signori ma il primo obiettivo che noi dobbiamo salvaguardare e riuscire a avere dove dormire signori quindi recuperiamo tutti questa foglie bellissime tanto abbiamo alberi in abbondanza possiamo tranquillamente possiamo tranquillamente distruggere un alberello e prenderci tutte le foglie 32 forse non mi basteranno mai nella vita per fortuna sono tutti alberi uguali quindi non avremo problemi di foglie di colore diverso recuperiamo ne qualche altro da qualcuno più vicino ok dai 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 così recupera 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 64 mi basta secondo me non lo so ma nel dubbio recuperiamo nel dubbio recuperiamo nel dubbio recuperiamo pure quest'albero che è bello ciccioso ciccioso così riusciamo a fare qualche altra cassa in più per poterci riuscire a coprire le nostre pareti forse non sarà forse l'unica cosa su cui non ho ragionato è l'illuminazione forse ci manca un po di illuminazione in questa casa va bene poi lo vedremo lo vedremo successivamente vediamo di fare qualche lanterna tanto comunque qualche qualche quest'albero si sta rompendo se non sbaglio sì quindi siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo del di riuscire a eliminarlo tutto finiamo di recuperare le nostre piante no se ne è venuto giù il diluvio per fortuna che nel deserto non piove signori guardate 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 passiamo il deserto nel deserto non piove lasciamoci lasciamoci la pioggia no qua piove che cazzo non è perché qua piove ma che razza di cosa è allora dobbiamo fare un giro tutto così dai così dai così ok non si attaccano vabbè delle foglie volanti signori delle foglie volanti va bene per ora teniamocene così poi vediamo di se faremo qualche piccola modifica per ora abbiamo le foglie volanti a casa nostra foglie volanti a casa nostra va bene e attaccalo dai così studieremo qualcosa signori studieremo qualcosa per questo piccolo bug delle foglie che non si attaccano ai 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 pilastri va bene qualcosa ci inventeremo allora mi fai salire in qualche maniera sopra ok va bene dai così ok riusciamo a salire sì perfetto lì come lo metto lì mi serve un blocco sano se non me lo fa attaccare blocco sano lo metti lì ok e mettiamo tutto no quello lì non lo dovevi mettere mannaggia piccoli errori di di costruzione ok me lo devi fare tutto così a giro molto carino sempre che ci riusciamo ok continuiamo il giro signori una casa molto spartana molto alternativa non le solite case che uno dice impostate legno quello con mega costruzioni siamo su un'isola deserta dico dobbiamo ambientarci con quello che abbiamo dai eccoci ok e qui lo portiamo a pari signori non 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 facciamo costruzione no la c'è un creeper come è spuntato quel creeper signori come cazzo lo è spuntato quel creeper è quello che è un enderman che ci fa un enderman a casa mia signori questa no 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 ci sono tutti gli scheletri no 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 andiamo a dormire via 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 no 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 mannaggia a te a chi non te lo dicevo sì sì rubati la sabbia ma se mi dai un enderper guarda zio ti amo tutta la vita se mi dai un enderper dammi un enderper dammi un enderper che questa serie potrebbe migliorare no no dove sei dove sei e muori porca miseria quanto ci vuole a morire con una spadata di legno dove vai dove vai mi fa le pinte mi ha dato l'ender per signori mi ha dato l'ender la prima enderper della storia riesco a dormire adesso sì bella così allora è successo l'inferno è successo non mi sono accorto che stava realmente calando la notte pensavo fosse ancora fosse ancora giorno signori di là stanno morendo in 80.000 quel creeper lì è qualcosa di brutto forte e leviamo un attimino questo pezzo di terra di qua che non ci serve che cazzo l'è successo sentito strani rumori di cui non mi piace per niente ci sono un sacco di enderman questa è una cosa molto buona quel creeper la è pericoloso questo scheletro la è morto ok signori abbiamo la nostra casetta guardate che carina è veramente una baita una baita e sì l'unica cosa che mi fanno letteralmente cagare queste queste di qua questi leviamo lì questi mi fanno proprio cacano porca misa ma ste foglie si rompono subito ma dai facciamo così allora qui la situazione si sta un attimo diventando molto particolare la situazione sta diventando molto pericolosa agli ai ok calma 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 la situazione si fa molto pericolosa questa cosa non è buona ora devo stare attento a non rompere bello così fermo ok ci mettiamo l'altro perfetto stessa cosa la facciamo qui lo rompiamo da questa parte così evitiamo il possibile ok questo lo leviamo pure si riesca a passare ok lo leviamo di qua e rimettiamo questo perfetto stessa cosa la dobbiamo andare a fare me ne manca uno si mi mancava questo che stessa cosa andiamo a fare qua leviamo questo palo leviamo questo bel palo e ci mettiamo il le foglie signori in questa è casa nostra considerate che tutto attorno e sarà circondata ovviamente da le casse io non ho più staccionati ciole staccionata la signori quando lasciamo l'apertura che non mi piace per niente questa apertura così mettiamo il paletto e poi continueremo a girare con le casse vediamo se riesco a fare un qualcos'altro vediamo se riusciamo a ottenere qualche altra cassa vediamo vediamo perché mi sono risolto che andando facendo mega costruzioni per per il magazzino cose particolari noi non riuscivamo mai ad a ottenere qualcosa di utile non riusciremo non riuscivamo mai a ottenere qualcosa di utile signori invece così avremo tutto a portata di mano ci farà da protezione dormiremo dentro il nostro magazzino che sarà anche la nostra bellissima capanna detto questo signori io vi ringrazio di aver guardato questo video vi ringrazio per i like per i commenti per i suggerimenti e per il supporto piano piano la nostra struttura sta andando avanti c'è qualche mostro che sta per venire no ok la c'è un drone ed però va bene abbiamo ottenuto la nostra prima ender pearl che ci conserveremo gelosamente signori e detto questo che dirvi grazie per guardare questo video noi ci vediamo in un prossimo video bella raga ciao ciao ciao